Ma ci sono due aspetti di questo problema, uno di merito, impedire, proibire, porre un divieto a una cosa così umana e credo che basti ad ognuno aver avuto un'esperienza di un malato terminale, che può essere un male fisico, una terribile depressione che è quasi più grave che un cancro, per capire che è una cosa del tutto ovvia, naturale, che uno voglia porre fine alla propria sofferenza e alla sofferenza di quelli che gli stanno intorno, eppure questa cosa così comprensibile, così umana, che chiunque sia passato attraverso questa esperienza capisce, non riesce a diventare problema di cui si occupa la politica. E con tante lamentazioni a proposito dell'antipolitica e del rifiuto della politica, basterebbe riflettere a questo per capire che se la politica non riesce a occuparsi di questi problemi, la distanza sarà sempre maggiore. Fra l'altro tutto questo suscita delle brutte considerazioni su cosa è diventato il Parlamento, che è sempre più distante, discute di cose che sono sempre più incomprensibili e distane a quello che si muove nella società. E allora, ecco, credo che sia al di là appunto della sostanza del problema, questa questione sia proprio una delle questioni indicative per fare una battaglia, per cambiare il modo di fare politica. Io credo che ci sia oggi una crisi della democrazia, come l'abbiamo conosciuta molto seria. In Italia in modo molto accentuato, in parte anche nel resto del mondo, la distanza fra le istituzioni e i cittadini diventa sempre maggiore. In parte anche, questa è la mia esperienza, perché quando c'erano i grandi partiti di massa, con tutti i loro difetti, però erano in qualche modo delle cinghe di trasmissione fra il cittadino e il Parlamento e il governo, spariti quelli è rimasto soltanto un grande vuoto. E allora a partire da questa questione si può fare una grande riflessione su come si deve cambiare, perché è uno scandalo che siano danni dei progetti di legge giacenti in Parlamento su questa questione, che ci sia un progetto di iniziativa popolare e quindi che d'obbligo costituzionale dovrebbe essere esaminato dal Parlamento e che invece non se ne faccia niente e non sia neppure all'ordine del giorno.